Buonasera, oggi siamo con Ico Gasparri, fotografo sociale. L'ho conosciuto, anzi Dolce, l'ho conosciuto nel 2011 perché si occupava di stereotipi di genere nella pubblicità, nella pubblicità sia outdoor che pubblicità sulla stampa e lui aveva scritto un libro molto bello, Il maestro del lupo cattivo. Chi è il maestro del lupo cattivo, che è stato stravenduto, adesso lui ne ha poche copie, però è un libro bellissimo che vorrei che lui ci illustrasse meglio. E adesso cosa fai? Ci sta parlando da Napoli, perché lui è napoletano, anche se è vissuto a lungo a Milano, dove aveva un bellissimo studio, dove faceva dei workshop, dove ospitava giovani leve che volevano imparare a fotografare, fotografare in modo giusto. Quando ancora non c'erano solamente le fotografie fatte con le telecamere del cellulare. E adesso cosa ne pensi? In questo momento è cambiata la pubblicità sociale oppure no? Allora, buonasera a tutti quelli che ci ascolteranno, a tutte le amiche e gli amici che seguiranno questa nostra cacchierata. Mi fa molto piacere che tu mi hai chiesto di discutere un po' insieme, perché è una cosa che si fa sempre meno. Ma non per l'epidemia, perché ci parliamo sempre di meno. E quindi quasi più nessuno ti chiede veramente quello che stai pensando o facendo. Sì, hai detto bene, io sono a Napoli ormai da un po' di anni e mi occupo adesso di turismo, perché appunto il lavoro artistico è veramente stato colpito dalle crisi precedenti a questa del virus e anche il lavoro, diciamo così, di impegno sociale l'ho messo un attimo tra le cose a cui penso, insomma non sono le cose che faccio più praticamente. Questo potrebbe essere comunque già un interessante argomento di discussione, considerate che io mi definisco una persona tenace e determinata. Quindi se una persona tenace e determinata mette via delle cose, c'è un problema. E quindi, come tu ricordavi, sì, mi sono occupato per un tempo lunghissimo. Adesso sono già passati i trent'anni dall'inizio del mio lavoro, che è cominciato nel luglio del 1990. Quindi stiamo parlando di epoche, perché per alcuni sono conosciute, per tutti i giovani oggi non fanno fatica, mi accolgo a volte parlando con i ragazzi più giovani. E immaginate cosa fosse il mondo all'epoca. Cioè, una parola sessista non c'era, per esempio. Cioè, quando io ho cominciato a fare questo lavoro, non c'era una parola sessista in italiano, per niente, ma non si usava neanche dirla questa cosa in questi temi. Io parlavo di violenza già dall'epoca. Devo dire, ho sempre scelto questa strada, di parlare di educazione alla violenza. Perché il mio percorso di studi, soprattutto, io sono un ricercatore universitario, che ho sempre fatto il fotografo nella mia vita, da quando avevo 15 anni, ma ho avuto una parentesi molto lunga di vita universitaria, nella quale sono stato archeologo, e ricercatore appunto di società antiche, a cui ho un po' la fortuna anche di avere degli ottimi mesi dell'antropologia. Quindi, soprattutto, il mondo della decodifica delle immagini. No, ecco, diciamo, ci tengo a dire queste cose un po' collaterali, perché quando una persona scende per strada, come facevo io, e fa delle fotografie ai cartelloni pubblicitari, può sembrare che è uno che fa la collezione di figurine. Ha fatto uno, due, dieci, ne fotografo tre mila, ecco, sono bravo. Però io l'ho affrontato invece con uno spirito diverso, dove la collezione c'era, nel senso che dal punto di vista strategico, la collezione era importantissima, perché doveva produrre una base di documentazione. ma quelle cose per me erano delle pagine, dei libri, dei tappelloni, delle lavagne, su cui c'era registrata una comunicazione. Avevo imparato, grazie ai miei studi, a decodificare delle pitture di una tomba etrusca o una scultura sopra un frontone di un tempio, dove ci sono centinaia e centinaia di simboli nascosti a noi meno evidenti, agli antichi più evidenti. è chiaro che davanti a un cartellone pubblicitario la strada è anche più facile, nel senso che sono un certo a noi moderni, usuali, sono linguaggi che noi capiamo meglio, e quindi per me non è stato tanto difficile. Ma cosa difficile, leggendo quelle scene, queste migliaia di cartelloni pubblicitari che ho fotografato per strada, è stato piuttosto convincere, sembra strano, detto adesso, convincere le persone che dentro quei manifesti ci fossero delle comunicazioni. È molto complesso questo, più complesso il mio rapporto con il pubblico che non il mio rapporto con l'oggetto, con l'oggetto cartellone pubblicitario. L'oggetto cartellone pubblicitario era una cosa stupida, stava là, bisognava solo decidere se avevamo voglia di leggerlo o meno. Quello che invece è stato molto complesso in questi anni, ha portato a volte anche a dei scontri significativi, a volte anche a dei misteriosi, con alcune persone, minoranze, comunque minoranze significative, era convincere le persone a dichiarare, a riconoscere che quella roba fosse una comunicazione. Oggi sembra banale, ma nel 1990, all'inizio del 1990, quindi all'inizio degli anni 90, e se li vogliamo chiamare in un altro modo, erano la fine degli anni 80, e questo si carica per noi che li abbiamo vissuti, di significati potentissimi, le persone non erano disposte con il vento che soffiava all'epoca a indagare su cose che fossero complicate. Ti ricordi, all'epoca noi eravamo per le cose semplici, no? Bisognava fare gli aperitivi, bisognava mangiare al bar, bisognava sorvolare, bisognava diventare ricchi a tutti i costi, bisognava essere belli a tutti i costi, bisognava depilarsi, bisognava fare delle cose che prima non si facevano. Quando io dico a mia figlia che le mie poetane e la sua età avevano i peli sotto le ascelle, lei non ridisce. Prendete che paradigma, è cambiato il paradigma, Prima non si faceva, adesso non si può non fare. quindi alla fine degli anni Ottanta ci trovavamo in un mondo assoggettato moltissimo a questi poteri rampanti, a questi poteri forti, dei quali la pubblicità era un megafono importantissimo, perché, come sappiamo, è in vita al consumo, spesso in vita al consumo di cose inutili, qualche volta, ma questo non è il mio scopo, era anche Mendà, cioè c'è chi racconta delle cose che non sono così, ma la facciamo vedere, e quindi riconoscere che quelle cose che si vedevano erano il frutto degli anni Ottanta, della nuova società che si imponeva, le donne dovevano essere belle, performanti, magre, con la pelle liscia, il sorriso, i capelli meravigliosi, che avevano di bellissimi, bellissimi, elegantissimi, eccetera, eccetera, era proprio il risultato. Quindi le persone con le quali io parlavo, e magari il riconoscimento o consciemente avevano preso a modello quest'epoca, non ce l'avevano voglia, non ce l'avevano voglia, ma non impartiva fede, molte non ce le avevano voglia per dolore, ovviamente, perché qualcuno, fastidioso, si perde più, la cosa molto più fastidiosa che fosse un uomo, un maschio, li invitava, e invitava soprattutto le donne a riflettere su queste cose, poi, anche parlava su un perché, a riflettere su delle strade che forse avevano intrapreso, a guardarsi intorno sulla strada che avevano intrapreso, ma che avevano intrapreso politicamente, onestamente, possiamo dire, tutta la popolazione, tutto il mondo che ha assunto questa direzione, le voci che si sentono. È possibile che siamo passati solo vent'anni? Perfetto. Non tante. Trent'uno. Ah, con i tempi che corrono, trent'un'anni sono. Ah, giusto. Trent'un'anni di oggi come oggi. Io andavo in giro con una macchina fotografica, con una pellicola grande così, solo non esistevo i telefonini, ma non c'erano neanche le macchine digitali. Stiamo parlando di un mondo che oggi sembra antico. Per me fare le fotografie significa prendere un sacco di soldi perché facevo delle fotografie professionali, mi stavano il mio lavoro, spendevo soldi molti per le pellicole, per le stampe, eccetera, eccetera. Quindi non è che noce che essi con le macchine fotografie apparentemente non stai spendendo niente, addirittura con il telefonino e quindi veramente non spendi niente. Quindi capii che se non è stato sempre io un attivista, un militante sociale, capii che quella roba lì andava a raccontare. Che qualcuno doveva fare il lavoro sport come dicono nei film americani. Qualcuno doveva fare il lavoro sport e dice bene, voi mettete questa roba, la gente fa finta che non la vede e io ma vi faccio il servizio, ve le consegno. Perché l'edificio di tutti quelli che non hanno studiato questo mondo ma è un'esperienza che ci pensate è sempre evidentissima e le pubblicità sono cadute su uno quindici giorni. Quindi questo è un effetto straordinario nel senso ogni quindici giorni ma quindi anche tutti i giorni se consideriamo i tanti cartelloni ci vengono rinnovati questi messaggi e non ce ne accorgiamo come se ci resta una piccola siringa ogni quindici giorni ma noi non ce ne accorgiamo e questa roba è un'altra parte un'altra parte tanto per cui noi vediamo milioni da pubblicità pratico strategico decisi di occuparmi scientificamente cioè di occuparmi bene soltanto della pubblicità stradale quindi perché perché la pubblicità televisiva non che fosse migliore ma che era una sostanziale differenza che in un seminario approfondito potremmo studiare ma la pubblicità televisiva era complicata da documentare dovevo mettere lì una mobilola un registratore non avevo i mezzi non avevo il sistema e soprattutto non mi interessava mentre mi interessava raccontare quella cosa che succedeva davanti agli altri di tutti questo è una frase che mi annoia a ripetere ma la ripeto perché è efficace la pubblicità stradale è l'unico mezzo di informazione obbligatoria che esista al mondo non ce n'è un altro si è dato in questi trent'anni qualcuno a dirmi quale fosse un altro mezzo di comunicazione obbligatorio e nessuno me lo sa pubblico la pubblicità stradale è l'unico mezzo di informazione obbligatoria quindi i giornali scrivono cose mentali ma il giornale puoi non comprarlo puoi comprarne uno che dice meno bugie oppure puoi decidere di non leggerli proprio e non accenderlo ecco ti immagini sulla banchina della metropolitana che decidi di non guardare la pubblicità affissa al muro è impossibile camminare con gli occhi chiusi che è finita sotto al treno quindi quando sale una scala mobile quando cammini in macchina studiandole bene le mettono le dita le curve per cui tu fai una bella curva arrivi là un boom che fai anche un incidente a volte o sono tutte persone che sono distratte che hanno fatto un incidente perché si controlla di fronte magari un sedere di 18 metri quadrati e quindi stupiti dal fatto per cui strategicamente scelsi la pubblicità stradale perché era facile raccontare non è facile di continuare era facile di continuare la pubblicità una testa di potine e raccorsi il più grande archivio del mondo su questo fenomeno cioè la città e la sua pubblicità quindi mi interessava anche questo aspetto antropologico cioè di raccontare cosa fosse quest'elemento nella città sapendo che stavamo anche parlando e qui entra il mio mondo politico stavamo anche parlando di un orfazio pubblico dato in concezione a persone private per trasmettere un messaggio cari per tutti quindi in questo in questi aspetti che noi spesso diamo per i mali ci stanno un sacco di complicazioni chi l'ha detto che io nella città devo vedere il mio viare interrotto da una fila orrenda di cartellone o a Napoli camminando su via marina io non devo vedere il Vesuvio le montagne il porto perché ci stanno tre chilometri di cartellone e bucciari allineati contro la recensione quindi questa è vero come è stato dichiarato che il panorama è un bene culturale io ho sempre rivendicato anche questo aspetto cioè lasciateci il nostro panorama alcuni progetti ai poteri forti o curti senza farti domande dico sempre ma la pubblicità va a guadagnare dei soldi e quindi fermiamoci perché non è vero che i comuni guadagnano queste grandi cifre e soprattutto ammesso pure che sia vero bene discutiamo se i soldi sono il prezzo giusto da pagare per un danno con il grave un danno di un paolo del Brasile i cartellone pubblici sono vietati o se camminate nella campagna francese in macchina mi sembrare di stare in un spazio insolito cosa c'è di differente dalla campagna francese che non ci sono i manifesti pubblicitari stanno rarissimi qua e là ma non come qui che tu cammini boom 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 e bombardare ecco questo è un po' l'inquadramento quindi motivo strategia e e quindi e quindi e quindi qui entra un po' in gioco anche la storia di persone infatti il libro che vi fa vedere per lì le ultime le cose questo libro ha due sezioni è diviso più o meno a metà e metà e c'è una parte che si chiama diario e una parte che si chiama analisi ora analisi è la parte più semplice la parte nella quale analizzo i cartelloni 311 cartelloni pubblicitari che ho preso a campione per raccontarne i contenuti però mi sembrava importante anche raccontare la mia storia dentro questa storia nel senso che cosa succedeva a me che andavo in giro a fare questo lavoro per questa persona che senza che nessuno gli abbia chiesto stando per molti anni all'inizio anche per un maniaco sessuale perché noi oggi certe cose sembrano banali ma quando io stavo sotto un cartellone pubblicitario con una grande macchina davanti a me magari per un sedere grande 6 metri per 3 o 6 metri per 3 insomma un grandissimo sedere dei seni giganteschi così e uno passava da là e mi vedeva sotto il cartellone e lui c'era la macchina che era più in mano ma guarda questo che caminato brava brava andavo a destra al sinistro salivo scendevo muogevo facevo andavo più lontano più vicino e vai questo è un'umanico ma che sta facendo questo e fa perché chiaramente all'epoca non c'era queste più vedite non c'era e sempre parlando di un'unità diario per la bellezza di quattordici anni come se vuoi fare complesso per la bellezza di quattordici anni questo lavoro dal 1990 al 2004 è rimasto clandestina per tutto questo immenso patrimonio questo immenso archivio questa cosa scottante erano passati con quattordici anni quindi dentro l'Italia si era già morta già cambiata erano successe tante cose nel 2004 avevamo già dieci anni di berlusconismo alle spalle quindi con tutti gli scandali che erano successi eccetera manifestandosi più avanti per quattordici anni questo lavoro fu diciamo così ignorato simbietto rifiutato da tutte le testate le gallerie le giornaliste le persone a cui io proposi questo lavoro mi chiedevo guardati io ho fatto questo lavoro qua pensa che sia l'utile raccontarlo alle persone no è troppo complicato è troppo difficile cosa che diciamo poi ai nostri lettori se alla pagina dopo ci sta quella pubblicità là e le faccio un'intervista e pubblico questa intervista poi sul mio giornale alla pagina dopo ci sta proprio la pubblicità di cui ci siamo parlati quindi come direttrice faccio nomi dei magazine allegati ai giornali più importanti d'Italia cosa che figura faccio insomma non posso l'editore non lo posso dire la stessa cosa tra i galleristi le persone del mondo della comunicazione gli editori gli editori 18 editori hanno rifiutato il mio libro prima che lo facessi io da solo quindi il mio libro è stato fatto da me infatti c'è sulle ma come tiene scritto libro senza di cuore quindi dopo che tutti gli editori benché in quell'epoca io lavorassi in casa editrice poi ho smesso di fare l'archeologo e lavoravo in casa editrice non trovai quindi per dilungarci troppo alla fine del 2004 due amici che avevano una galleria indipendente di quelle che non correvano a pensare i collezionisti per capirci non dipendevano da poteri banche eccetera eccetera mi offrirono uno spazio di 5 metri per 5 quindi un spazio molto buonissimo per esporre questo attivio che era immenso e io non avevo i soldi per esporre quindi mi inventai questa faccenda e stampai dei provini a contatto che sono degli oggettini piccoli di 5 cm di modo che portassero poco quindi per il mare dei grandi le grandi stampe fotografiche feci tutte queste provine e ne esposi la bellezza il 464 forse una delle edizioni più belle quella ripetuta anni dopo a Genova in cui c'erano tutti questi artoncini neri con la fotina messa in mezzo e quindi la gente camminava in questo piccolo spazio a volte da questa da questa gigantesca e ci furono poi a quel punto interesse e dopo questa prima mostra a quel punto cominciò l'interesse avendo di persone tipo Silvia Mucciaccia per esempio che mi aveva amato subito per questo lavoro e quindi mi portò a fare la prima molto importante Cesano Cospone eccetera da lì partirono degli anni in cui questo lavoro avrebbe successo fino al 2010 quando vinsi e questa è un'altra cosa interessante da sapere nel 2010 io avevo smesso di fare questo lavoro dopo 20 anni ero amareggiato ero affilito anche perché le difficoltà erano tante mi trovo a volte ad assumere un peso per non meno ma a un certo punto nel 2010 quando io finì questo lavoro che avevo già anche smesso di accogliere le foto per strada in maniera sistematica perché in quegli anni ero in periodo le foto in maniera sistematica in casa a fotografare queste categorie a quel punto vinsi un premio come migliore artista italiano che si possa occupare di problemi di genere questo problema mi fu consegnato da Emma Molino paradossalmente nel momento in cui io feci una conferenza a questo pubblico rionito nella Paola Magna Università di Milano dove io richiaravo che avevo smesso e lei nello stesso momento mi dava un premio per quello che stavo facendo quindi una distincronia estacolare e lei dando questo premio mi disse eh mi raccomando continua così per dieci anni ci vediamo ancora con questo io dissi no non posso continuare se non mi aiutate più cioè se continuate da non aiutarmi io non posso continuare non trovo di guardare e quindi dal punto di vista dell'indagine statale finì lì nel 2010 suggellato da questo premio che mi aveva fatto piacere meglio tardi che mai e uno dice vabbè e quindi poi non spesso tante altre cose ma ti lascio un po' la mano ma adesso in realtà eh ci sono meno pubblicità esististe per strada e soprattutto a nord eh qualcosa resta un po' sud Italia non so a Napoli come sia la situazione eh però o merite cioè fatte dai proprietari eh delle 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 aziende che pubblicizzano guarda per rispondere seriamente a questa domanda dovrei disporre di dati di cui non dispongo nel senso che chiedere che oggi ci sono meno pubblicità allora in realtà siamo in periodo di crisi di lungo periodo e quindi c'è un grosso problema di pubblicitaria da anni la pubblicità stradale non la vogliono più perché costa troppo eccetera eccetera e le aziende non hanno più soldi quindi facci sviare dalla quantità secondo me non è quanto corretto e soprattutto se poi guardiamo i contenuti che stiamo parlando vediamo qua è l'acqua che succede io penso che è solo un pochettino più di pubblicità nel senso vogliamo dire che la violenza dentro un cartellone pubblicitario va dai valori da 1 a 10 se c'è stato un periodo in cui a livello 8, 9, 10 si attestavano tantissime campagne pubblicitarie adesso diciamo che anche abbiamo fatto negli anni passati l'iniziativa e tutto quello che è stato poi raccolto dalla società civile diciamo che adesso il livello massimo è un po' sceso nel senso non ci sono più quelle cose più offroni non è però se guardiamo bene che io la vita sono condannato a guardare le politiche stradali non potrò mai passare perché non mi facendo finire niente io se mi dici Ico qual è la tua impressione in questi anni stiamo andando meglio io non ti posso dire di sì magari saranno meno i manifesti e lì dobbiamo capire se sono meno in assoluto se sono meno quelli violenti ma secondo me quelli che ci sono contengono molto molto spesso una dose paragonabile a quelle di prima di violenza di sessismo di diseguaglianza eccetera non mi pare una situazione risolta continua a guardare che sono per televisione le scene capendo che la società e questo poi è un altro tema gigantesco che è esponbo ma neanche tanto da questo lavoro perché ci stanno ancora queste pubblicità e diciamo parallelamente al fatto che vediamo un tema che mi affascina moltissimo vediamo come invece la società che si sia spostata in gioco il tema dei maschi la società è spostata quando dico entra in gioco il tema dei maschi non voglio dire che i maschi siamo migliorati no no entra in gioco il tema dei maschi e io dico che ne faremo interessa una diretta cosa è un momento che anche vedete con quello che ci siamo detto finora ma un po' collaterale nel senso ma perché ci sono perché io sto per dirti che la la mia sensazione la mia la mia idea su cui ho scritto un articolo un po' di anni fa che si chiamava vent'anni dopo la rivoluzione finita di che rivoluzione di che rivoluzione parlava della rivoluzione femminista la rivoluzione femminista è finita perché ha vinto come è possibile la rivoluzione femminista come la come la leggo io poi chiaramente essendo io un maschio di solito vengo esautorato dalla facoltà di parlare di temi femministi perché in Italia non esistono i maschi femministi quindi no non è vero gli nici i dozzi non sono vecchi sì sì ma è una categoria ma non so questa certamente ognuno deve prendersi la propria parte della sottabilità ma non è l'autocertificazione che parlavo e scherzi quest'articolo un po' di anni fa sulla rivoluzione è finita perché in effetti il potere femminile è uscito finalmente dal sottacqua diciamo così e si sta affermando in maniera planetaria non lo vediamo ancora bene non lo vediamo ancora bene perché i segni non sono ancora tutti così evidenti io sono uno studioso appassionato dei sistemi in via di formazione perciò il mio lavoro si chiama chi è il maestro dell'uomo creativo il maestro è una didattica una paidea una crescita quindi è una formazione e quella roba lì era un processo in via di formazione come si arriva a un mondo più splendido con l'educazione a violenza e tornare al discorso della rivoluzione infinita questa che a mio parere è stata la più importante rivoluzione dei tempi moderni lo andiamo a vedere dove nei luoghi del futuro potere facoltà di medicina facoltà di ingegneria facoltà di giurisprudenza no chi ci sta oggi in queste facoltà quanta gente alla nostra età quanta gente stava seduta genere femminile in una facoltà di medicina io ho fatto medicina nel 1977 nella mia vita ho fatto anche un po' gli studi di medicina 1977 su 2.500 iscritti la mia facoltà di medicina di donne non me la ricordo neanche ce ne sono state 10 adesso provo a entrare nella facoltà di medicina no provo a farci un giro in ospedale e comincio a contare quanti sono le primarie donne soprattutto una settimana in micro comincio a contare quanti sono i magistrati donne e comincio a contare quanti sono gli ingegneri che comandano e le direttrici del CERN di Cinegra e quanti sono i presidenti della Cassazione eccetera eccetera questa roba qua è l'emergenza di qualche cosa che da qui a dieci anni ci troveremo da gestire e noi maschi non ci stiamo interrogando su questo che fine faremo quando il potere questo è un lascito antropologico straordinario nel senso che le donne stesse hanno paura probabilmente un brivido perché quando poi c'ha lo scetto in mano e comandano beh è bello dire mi hai messo sotto poi verrà il giorno in cui io sto sopra e quando sto sopra a questo punto devo comandare io perché sto sopra e quindi forse perciò è un brivido che dura da tre milioni e mezzo di anni perché oggi per questa situazione essendo un meno una forza muscolare e si può comandare il mondo con un ditino oggi il ditino lo possono muovere tutte anche le persone che fanno una canale e accendere una bomba nucleare quindi a questo punto la differenza che ci ha caratterizzato per tre milioni e mezzo di anni non ha più motivi di esistere però i giovani d'oggi i giovani sono diversi della nostra generazione non vedono la differenza le differenze probabilmente perché le giovani donne non hanno ancora realizzato la differenza che esiste nel momento in cui fanno figli però è vero anche che io ho una figlia di 25 anni quindi sono proprio nel discorso che stai ponendo è vero anche che le ragazze di oggi pensano ad andare avanti e basta pensano già a comandare quando sarà più avanti i figli non solo probabilmente non li faranno probabilmente li faranno in un modo diverso da noi probabilmente li faranno a tutti che avranno un lavoro meno retribuito sicuramente perché si saranno meno formati il liceo classico era vietato una donna iscriversi al liceo classico vietato la gente in liceo classico sono tutte donne è vero che qualcuno potrebbe dirsi sì ma a un tempo al liceo scientifico qualcuno ci dirà che si studia bene pure a un tempo al liceo scientifico non c'erano donne i figli che fanno a un liceo scientifico donne e uomini cioè ragazzi e ragazze per cui vedi si sta spostando un pochino esatto per cui secondo me i numeri di interazione avranno un rapporto diverso un rapporto diverso il problema non se lo stanno proponendo più il problema della parità dell'evantificazione quasi non se lo comodo nemmeno un pochettino ma no ma direi entità sui diritti precedentemente acquisiti e scambiano la vita al giorno dopo per un anticoncezione ma va bene però sta marciando veloce molto più veloce di quanto noi non riusciamo a capire vedi gli Stati Uniti hanno fatica a leggere una presentessa donna ma poi non l'hanno hanno cominciato con un uomo nero e non hanno avuto il coraggio di fare di più però l'hanno fatto no e poi hanno cacciato l'uomo piondo e quindi vedrai che questa roba che ti sto dicendo che è armeticante in qualche modo però se la vedi nei luoghi del futuro potere che oggi sono piccoli è andata tutta screta e loro mi dice perché per Stati ci sono ancora queste pubbliche perché gli uomini ammazza ancora le mogli ma proprio per questo proprio per questo perché questa emancipazione è reale adesso mentre prima si vede in tanti film che hanno visto diversi film in cui queste cose in Italia in un tempo queste cose sono ben evidenti mentre prima la donna stava a casa si prendeva si prendeva le corne si prendeva le bocce si prendeva che doveva buscare i pavimenti eccetera eccetera quando lui però ha smesso di esistere e questo punto è complicato quando le psicologhe social e le esperte gli esperti ci raccontano che il no del proprio partner diventa un'arma letale no quindi quel potere che già effettivamente lui non ce l'ha più e che però viene ricordato a lui di non averlo più lo trova impreparato ecco perché ti dico il problema ancora una volta siamo nei maschi siamo nei maschi quando comandiamo e siamo nei maschi anche quando non comandiamo più quindi è un problema serissimo che non puoi affrontare nel mondo dei maschi in questo momento io come in Italia sono amico affezionatissimo del mio gruppo di maschile plurale ma è un'operazione estremamente minoritaria estremamente limitata nel numero dove una volta ho partecipato ad un'assemblea nazionale erano 12 20 ma poi fuori c'è tutto il resto che non vuole sentire parlare quella è un'esperienza meravigliosa ma poi fuori tu vai a parlare con un uomo normale che oggi ha il potere e gli dici senti ma secondo te tuo figlio è preparato a non fare più come hai fatto tu non te lo vuole dire non siamo e questo sappiamo con un tema sicuramente all'ultimo giorno dei prossimi vent'anni va bene non ci sarei più forse ma non lo so non lo chiede però sicuramente e però lui dice allora perché ci stanno ancora i pubblici a salare proprio per questo proprio per questo secondo me per un colpo di quota cioè dice allora ci proviamo finché questa mela marcia continua a funzionare cioè finché questo linguaggio può trovare anche tre persone che spesso sono anche donne donne e uomini insomma nel mondo del consumo sappiamo che comunque ha una prevalenza femminile ma comunque a parte questo dettaglio non è ma è un colpo di quota come per dire state rubando il potere adesso vediamo le ultime botte e le ultime botte sono mortali questi uomini che uccidono queste donne vediamo anche l'altra ere tre quattro due tutti i giorni e le storie sono tutte uguali è ossessivamente genosia come fanno i giornalisti ogni volta a scrivere dei pezzi diversi perché le storie sono tutte uguali e lei lo lascia e 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 è un grossissimo dramma una catastrofe ma io direi una catastrofe antropologica che è umana ma è anche sociale di evoluzione direi proprio questa roba qua quei piccoli maschi che uccidono sono una parte della grande massa di maschi che non uccide ma che non è pronto al cambiamento cioè noi non siamo pronti al cambiamento e quindi sono ancora le battute sono ancora le discriminazioni cerchiamo di vedere due ragazzi gay ma non riusciamo a tollerare due ragazzi lesbici cioè ci sono tanti aspetti ancora da discutere e la pubblicità oggi è ancora strascica delle cose del genere ancora ci fa vedere delle scene poi ogni tanto ci mettono il maschio che cucina a casa che prepara la pasta così ogni tanto mi metto perché dopo tanti anni che abbiamo rotto il fratto eh certo certo un po' continuare non mettiamo più la moglie però ancora vedi le donne belle le donne che adesso sono performanti eccetera eccetera con eserciti di donne che fanno le stupide per me sempre non le conosco nella loro vita privata e quindi non mi posso permettere ma che interpretano le regole la stupida una cosa che mi piace è che sta seduta davanti a Fabio Fazio smettiamola con il settore qua ma cosa cosa è che sta pagliacciando perché questa donna ti presta per fare la minus se la benz risponde al marchio dominatore non va bene anche se riesci a essere democratico altre cose a me non mi piacciono va beh quindi insomma i cartelli pubbliciari come vedi sono ecco quello che io dico sono lo specchio della società prima parlavano alla pancia adesso danno colpi di coda ma il linguaggio è quello senti ti ringrazio hai fatto una lunga abbiamo fatto una lunga conversazione molto bella troppo lunga tornerai con noi quando parleremo di questi argomenti in donna in dialogo cosa che succederà molto presto e ti mando un grande un grande bacione perché dato che per computer i baci si possono ancora dare finalmente spero di vederti presto grazie mille grazie 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 per l'attenzione ciao 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 grazie ciao